Quando il tuo metabolismo si blocca inizi ad avere difficoltà a dimagrire. Finché resti intrappolato nel concetto di dieta e restrizione calorica sei sempre sulle montagne russe, perdi peso e lo riguadagni ogni qualvolta smetti di stare attento. Il vero problema è che le tue cellule stanno ricevendo un carburante sbagliato che blocca il delicato meccanismo che lega digestione, ormoni e neurotrasmettitori e impedisce al tuo corpo di raggiungere il peso forma in modo naturale. Sintonizzato sul metabolismo zuccherino e insulinico hai le tue riserve di grasso sempre inaccessibili e difficili da smuovere. Soprattutto il grasso viscerale che con la sua natura infiammatoria contribuisce a disturbare anche cuore, ormoni, tiroide e sistema immunitario. Ecco perché nel Sauton Approach non abbiamo una dieta per dimagrire ma una completa strategia per trasformare il tuo metabolismo. Perché? Perché perdere peso è un processo facile, naturale, spontaneo se fai i passi giusti e hai una strategia che funziona. Deve essere una strategia completa che coinvolge ogni aspetto della tua vita, che lavora contemporaneamente su corpo e mente e che deve stimolare la tua salute e la tua vitalità. Perché il peso forma è la tua condizione naturale e se non riesci a raggiungerlo è perché i tuoi sistemi interni non riescono più a svolgere il loro lavoro e stai dando loro il carburante sbagliato. Quindi la strategia efficace deve aiutarti a cambiare carburante e deve riattivare i tuoi processi vitali, altrimenti nessun sistema funziona a breve ma soprattutto lungo termine. Ma come puoi trasformare il tuo metabolismo e diventare metabolicamente flessibile? Smettere di essere un accumulatore seriale sempre sotto lo scacco della bilancia? È un processo semplice che chiunque può realizzare e richiede tre semplici mosse. Sospendi tutti gli zuccheri. Se ci sono zuccheri nel sangue non puoi cambiare carburante. Il corpo è obbligato a consumare zucchero e non usa i grassi sani che introduci. Quindi per farlo per alcune settimane devi completamente eliminare gli alimenti che lo contengono. Quindi via pane, pasta, pizza, dolci, cereali, prodotti da forno, succhi, latte di avena o latte di cereali. Via tutti senza sé e senza ma. Secondo, introduci ogni giorno grassi saturi di eccellente qualità nei tuoi pasti principali che devono prevedere proteine fresche e vegetali freschi e leggermente cotti. Distribuiscili in pasti e spuntini in quantità via via crescente e non essere avaro. Ti ricordo che i grassi più preziosi per la tua salute e per questo processo sono burro, ghi, olio di cocco, olio evo, avocado, tuorlo d'uovo. Terzo, introduci il digiuno intermittente, cioè la pratica di restringere le ore in cui mangi e allungare quelle in cui non mangi. Soprattutto pomeriggio-notte che il sistema ha più veloce per operare questo cambio in modo efficace. Quindi mangia dalle 8 alle 16 e poi digiuna dalle 16 alle 8 del mattino. Nel periodo del digiuno puoi bere acqua o infusi a volontà. Ti accorgerai che i due punti precedenti renderanno possibile questo terzo punto senza soffrire e sarà una bellissima sorpresa. Nel nostro store sosteniamo il tuo cambiamento con due strategie complete e successive. Passo numero uno. Cambia carburante e diventa un bruciatore di grassi con lo speciale restart di 28 giorni in cui metti in pratica le tre mosse insieme. Un detox che ti consente di entrare in chetosi e di riattivare il metabolismo con l'aiuto dei giusti pasti e di prodotti mirati che accelerano il metabolismo. Sul sito Sauton trovi un pacchetto dedicato e un menù gratuito da scaricare anche in versione vegetariana e vegana. Passo numero due. Dopo il restart di 28 giorni completa l'eliminazione delle vecchie riserve di grasso attraverso il programma avanzato per perdere peso. Si chiama Backing Shape Kit e ti permette di perdere fino a un chilo al giorno in modo sano grazie alla combinazione di gocce specifiche e un protocollo dietetico di 40 o 60 giorni. Quello che riceverai non è solo il raggiungimento dei tuoi obiettivi ma la libertà per sempre dall'incubo della bilancia grazie a uno stile di vita gustoso, flessibile e su misura per te.